Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale, adesso andiamo a continuare The Last Fast, ok ci facciamo un giro andiamo a riprendere dove avevamo lasciato anche se avevamo un giro andiamo solo a recuperare appunto tutti i materiali che dobbiamo recuperare di nuovo anche se ho salvato all'esterno mi fa ricominciare qua, intanto riprendo la mano un attimo con i tasti, ok va bene nota, intanto per farla leggere, ok prendiamo tutto, ah scusate la voce ma è prestissimo quando sto registrando questa puntata, sono le 5-3 minuti del mattino, ok il specchio non funziona qui, la stick, ok un attimo che intanto controllo tutto, allora questo lo possiamo rimettere a posto, questa no, questa è fatta, questa anche però possiamo farla, benissimo, allora via, sta subito, allora, no, devo ricordarmi tutto un attimo per, no, ok, adesso esco giù, muoio subito, quello che gioco per esercitarmi, puoi provare per esercitarmi poi al prossimo capitolo, ma poi magari hanno cambiato le meccaniche, come si guida i personaggi, sicuramente avranno cambiato qualcosa, aspetta, aspetta, pronto, aspetta, pronto, aspetta, aspetta, pronto, bello, ho trovato questa qui, ah vedi, ho pensato che dovresti averla, se si sente così, fa un culo anche a te, Frank, stupido idiota, pronti ad andare? pensi di farcela? si, non c'è problema, stai andando alla grande, è giusto dirtelo, non ti deluderò tranquillo, ok, e meno male le ho fatti sti dialoghi, l'altra volta le avevo persi, avevo perso anche un altro dialogo, quello irrecuperabile però, e niente, allora a questo punto si va, ok, va bene Bill, ok, mettilo in prima, già fatto, tieni il piede sulla frizione e quando si mette in movimento, so come si lascia la frizione, come diavolo, non mi interessa, non fare cazzate, ok Ellie stai pronta, schiaccia ora, schiaccia, perfetto, ehi, bel lavoro ragazzina, dai dai che ce la facciamo, dall'altra parte alla d'altra sinistra, mamma mia, una mano mi farebbe comodo, eh si, siamo a posto, torniamo al camion, vai vai vai, non volevo, ho acceso anche la luce, ecco, ehi, bella, dai abbiamo poco tempo torniamo a spingere vai vai che bella anche la musica basta no vai quante punizioni ha fatto andare ok Ellie metti in moto sentito che roba Bill significa che hanno sentito anche gli infetti saliamo sul vai vai abbiamo richiamato tutta la città ok qui va bene ferma non farla spegnere ok quella ragazzina ci ha quasi ammazzati dai ammettilo ha saputo cadarsela prima voi non ce la farete tieni che cos'è? ti stupirai di quante auto hanno ancora benzina grazie ehi Bill riguardo al tuo amico è difficile e io siamo pari siamo pari e allora vattene dalla mia città che storia no cazzo ehi non dovevi dormire ok so che non si direbbe ma questo è interessante da leggere c'è solo un problema guarda qui continua puntina odio la suspense dove l'hai preso? l'ho preso da Bill e c'erano un sacco di cose sparse che cos'altro hai preso? beh tieni non ti fa venire nostalgia ehi questa è precisamente più vecchia di me non è niente ma è meglio di niente oh sono sicura che al tuo amico questo mancherà stanotte non c'è molto da leggere ma le foto sono interessanti no no Ellie quello non è per bambini come diavolo fa a camminare con quel coso lì in mezzo ehi buttalo via smettila oh stai tranquillo voglio capire meglio do solo un occhiatino perché queste sono incollate? ci sto solo prendendo in giro ciao ciao amico ok ok sai una cosa? non vale per niente perché non proviamo? non sono stanca non sono stanca No, no, no. Ah, bu Gotri. There, a di controllo. Her love like belief is now help with the thing. Don't call them. Theancing, the rally, starting to die. andiamo ad aiutarmi là c'è la cintura è lì scusa è quel tizio ok tira brutta aria allora scendi in fretta vieni qua tu guarda lascia il pezzo di merda vieni qua zitti darò una bella lezione faccio di merda forza cos'hanno questi tizi? prendi fiato ce ne andiamo ok attento merda sta giù oh apri di nuovo Oh cazzo Oh merda Da Merda Sto gestendo malissimo Non ammissarti a lui Merda Non mi sento l'amico Accidenti Proprio là Al culo Guarda maledetti qua sono furbi Questa cavolo di luce continua a accendere Spero che Quella l'hanno spostata almeno Dove cavolo siete Dove cavolo sono C'era ancora uova Com'era già? Ecco Verdi Dasty No Basta con sto cavolo di... Bene Credo che fosse l'ultimo Tutto ok? Sì Credo di sì Bene Perché dobbiamo uscire di qui Sai come funziona? Guardati attorno E vedi se c'è qualcosa che ci può servire Ricevuto Ok Dovremmo averli seccati tutti Però mamma mia Come lo gestite male Guardate che non mi ricordavo i tasti Però è andata bene È andata bene Siamo sopravvissuti L'importante è quello Vediamo se riusciamo a trovare qualche Ok Avezione Vai lei C'è stato un attimo di Di paura Ok Ok Fatemi vedere bene tutti i cassetti Tutto Oh Non hanno perso Un colpo Ok Cos'era Allora Vediamo un attimo Però Facciamo questo Ma Ci può essere utile Adesso che non abbiamo più tante munizioni Ok Cambiamo anche questo Mettiamo l'arco Ci siamo Adesso un ultimo giro Alle munizioni Ma non credo che ci sia ancora qualcosa Invece si Tempo brava È lì Ok Fatemi fare un giro Qua Quello non ha perso niente E niente Certo che non si può tornare indietro O di qua Aspetta un po' Bene Provistiamo dappertutto Alcol Ok Vediamo se c'è uno Questa ne facciamo subito una Sì Meglio averlo pieno E prossimo lui Allora Nient'altro No Va bene Andiamo allora Almeno credo Sì Si va Avanti Vai Trova qualcosa per tenerla aperta C'è della roba interessante qua dentro È lì Scusa Ok vai Aleluia Ok ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Guarda Wow Cacciatori di merda Avremmo potuto essere noi Ah Ah Fumogeno Va la pena Davanti Usciamo di qui Fammi rovistare però Prima Bene Credo che qua abbiamo Ciao Telastofus No non è la prima volta che gioco È tanto tempo che non ci gioco Difatti Adesso vabbè Sto facendo una partita a settimana Sto portando avanti praticamente questa run Perché stavo giocando ad altro Però Lo sto giocando proprio per prepararmi un po' Alla seconda parte che sta per arrivare adesso a giugno Anche se credo che qualche comando l'avranno cambiato Però Era solo proprio per riprendere in mano un po' anche la storia E stanotte Mi sono svegliato troppo presto Allora ho detto Ok Mettiamoci a giocare a The Last of Us Fammi vedere un attimo Qua Ah no È solo l'elenco della roba che si fotteva No Ok Dovremmo aver preso tutto Vediamo un attimo Bene Ok Come lo sapevo? Di cosa? Dell'imboscata Mi sono schierato da entrambe le parti Ah Così Uccidi un sacco di innocenti No Sbaglio Quella è già Ecco Infatti neanche i tasti ogni tanto mi ricordo Prendilo come vuoi Prendilo come vuoi Guardalo lì Se era già questo Dove dormivano Ah ok Ci curiamo meglio adesso Ok Bene Nient'altro? Ah, bene, vediamo cosa posso elaborare, mi servirebbe una fondina, spero non so abbastanza roba, vediamo un attimo, anche questo farebbe comodo, qua invece, non lo so, però adesso mi sa che è meglio che miglioro le armi, capacità caricatore, dai, anche questo, e questo, e va bene così. Andrà alla grande, ok, meno male, anche la mappa, chi se lo ricordava che c'era la mappa, qua. Ora che roba. Va bene così, vai. Dovremmo aver preso tutto, se non sbaglio, vero? Credo di sì, ok ragazzi, continuiamo. C'è nient'altro. Andiamocela. Bene, ecco il ponte, la nostra via d'uscita da qui. Ehi, è lì, rallenta. Aspettami. Come? Sono qui. Perché non fai andare prima me e tieni la voce bassa? Ok. Beh, se squittisci così forte ci sentono a chilometri. Stanza di ascolto. Potremmo anche fare questo, però... Oscillazione dell'arma, però... forse è meglio questo prima. Aspettiamo di nuovo ad arrivare a 50. Va bene. Omogeni. Non me ne frega niente, facciamo uno di questi. Ok. Andiamo. Non c'è niente? No. C'è niente? Ok. Wow. Ellie, forse ho trovato un altro di quei fumetti che stai leggendo. No, lo leggo dopo. Vediamo, posso sfogliarlo? No. Ok. Questo lo fanno i tuoi amici cacciatori? Bello. E no, secondo me è stato l'esercito. Perché fare un massaggio? Non puoi far entrare tutti. E quindi li hanno uccisi? E i morti non si possono infettare. Ne sacrifichi pochi per salvarne molti. veramente una merda. Già. Eh già. Ragazzi, un secondo, torno subito. E, per quanto, qu'è parte? Qu'è parte che ci cosa? Qu'è parte che ciò che ha messo? Qu'è parte che ciò che si può usare? Qu'è parte? Niente? Qu'è parte? Qu'è parte? Yeah. Qu'è parte? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Wow, sei proprio giocato. Se vuoi delle missioni, ce le do io. Non c'è problema. Sì, come no. Joy, guarda. Grazie. Dove cazzo sono questi? Dovrebbero essere qui. Sono allo zincolo dell'autostrada. Non mi sorprenderei se avessero bloccato l'altro per lui. È una miniera, è un fortuna di bastanti. Vediamo se riusciamo a non fare... l'altro non lo vedo. Vabbè. L'altro non lo vedo. L'altro non lo vedo. Non lo vedo. Pagherai per questo. Vabbè. Vabbè. l'immunizione però, eh. Vabbè. Ok. Allora, ci serve questo. Ah, forse questo anche fa comodo. Prendiamolo. Però, guarda che spreco di situazione. Vabbè. Vabbè. Non credo ci sia più nient'altro. Sì, sì. Non ti preoccupare. È agitata. Devo andare sempre via. Ok. Cerchiamo di sdramatizzare. Pronti? Lo sai qual è il colmo per un fornaio? Doversi guadagnare il pane. Ma che cos'è? Barzellette. Morti dal ridere. Volume 2. Di Will Livingstone. Andiamo avanti. Conoscevo una medium che aveva due sorelle. La minore si chiamava Small. La maggiore Large. Ok. L'altro giorno il mio professore di diritto... Basta. Mi ha guardato... Basta. Allora qua mi sa che c'è qualcuno. Adesso forse un po' ricordo. Viamo. Si è teletrasportata. Io l'ho vista. Quel ponte sembra molto lontano. Ci arriveremo. Strano vedere un po' più di controllo senza soldati. Una tipica zona di quarantena. Questo posto è abbandonato da un bel po'. Dateci le nostre erazioni. Ah bene. Perché non gli hanno dato da mangiare? Spesso perché era finito. Mai più delle volte se lo tenevano. A vostro non è successo. Fidati. È successo un sacco di volte. Cos'è? Vediamo un attimo. Ah beh. Pensavo più grosse le scritte ma no. Invece. Vabbè. Andiamo. Secondo. Ok. Ci siamo. Ci siamo. Andiamo di qua. Mi sembrava che ci fosse altra gente qua. Forse da qui in avanti. Sì, Eden. Ma fa silenzio mentre attraversiamo questa zona. Ok? Nuovo cappoccia. Stessi discorsi del cazzo. Ah. Ok. Qua c'è un bel po' di gente. Eccolo lì. Oh mio Dio! Il secondo. Adesso vediamo un attimo di... Mettere un'arba un po' più decente difatti. Cazzo. Cazzo. Tu oggi ti è lì, ma è entrerci solo a me. Ah, mi sa che hanno visto solo i cadavere. Ok. Vediamo se riusciamo a seccarli senza fare troppo bordello. Sarebbe meglio. Proviamo prima con... ...questo. Non lo vedo più. Ok. Sono in due. Tre li abbiamo seccati al volo, quindi ci è andata abbastanza bene. Vediamo, appena ci dà le spalle proviamo a infilargli una freccia addosso. Che succede? Oh mio dio! C'è più di uno, troppi sono. Che cavolo sono andati? Opla, da lì, vediamo se riusciamo a sterminarli tutti. Ti dialoghi. Bisogna avere molta più pazienza in questo gioco qua che è Uncharted, tipo quello che appunto portavo. Eccolo. Eccolo lì. Ma che di cavolo sono? Eccolo lì dovrebbe essere invisibile. Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo. Eccolo lì. Eccolo lì. Eccolo lì. Ed è un po' sbagliato. E lì però sei proprio sempre in mezzo ai coglioni Oh merda Oh merda Oh merda Fatto No ce n'è ancora uno Che cavolo di Terminator Quanti sono? Non finiscono più? Io ho voluto fare sta strage però mamma mia Ok Altre munizioni no? Era meglio che passavamo Faccio più nessuno Aspetta Teniamo la mazza E non mi ricordavo più qual è Ma guarda che palle Dov'è? Mentre Io non c'è la sopra No c'è la sopra No c'è la sopra Ma dove cavolo sono? Sbricate Non li sento e non li vedo Era meglio che sviluppavo Ah sono sopra Sono sopra Ok Carichiamo quest'arma Per essere sicuri E non facciamo solo rumore Così riusciamo a recuperare un po' di roba E togliamo anche qualche stronzo dalla strada Così Sbrigati Joel Mi mettermi sta ansia Ah ma è sopra Mi mettermi sta ansia Facciamo prima Facciamo prima la stanzetta Non c'è niente No Sono rimasti solo più due Ok Abbiamo recuperato un po' tutto Certo che appena riprendi un po' confidenza con Con i comandi va Se riesci ad andare anche un po' più veloci Non il camminare ma fare tutto Ok Andiamo a ripulire questa zona Così siamo tranquilli Allora Allora Non è il panico Questi qua No Sono tre Cavolo Sono molti di più di tre Tocchiti Non so se eliminarli tutti Allora intanto fammi fare una cosa Vediamo quante munizioni abbiamo Eh poche Eh poche Eh poche Non so Niente facile Ripulire sta zona Ora proviamoci Proviamoci Togliti, è lì, madonna, sembra che mi fai incastrare. Adesso si fanno furbi e stanno fermi. Ehi, non gli fai niente il fucile. La vedono a lei, la vedono, al cavolo se la vedono. Ok. Ai confini dell'universo e il ritorno, resisti e sopravvivi. Scusa? Scusa? Savage Starlight. Sai quel fumetto che leggevo? Lo dice l'eroe dopo una battaglia. Resisti e finci? Sì. Va bene ragazzi, continuiamo. Allora, adesso siamo senza munizioni su tutto. Sì. Quindi teniamo questo in mano. Poi, devo smettere di accendere sta luce ogni volta. Guarda quanti libri. Vorrei avere più spazio nel mio bambino. Piace leggere, eh? Ma, quando non sto scappando da cacciatori infetti... Sì. 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 Alla cosa? Ah, ma l'ha consumato intero però il coltello, eh? Poi da munizioni. Un secondo. Sto facendo pasticci col microfono. Ok. Il tubo è decisamente più robusto. Vediamo adesso cosa possiamo fare. Questa, sì. Queste sono veramente buone. Questa ci manca qualcosina, ma magari poi l'altro di qua. Aspetta. No. Facciamo ancora un giro completo. Allora, quello... No, basta. Non ricominciare con la... con la roba. Nient'altro, dai. Io inizierei... Facciamo così. Facciamo un giro da questo lato. Teniamo questo. Ok. Niente. Ok. Niente. ci guardiamo dentro, non mi ricordo più, vediamo qua, sono decisamente più complicati i nemici qua, hanno reazioni un po' più umane, sono decisamente più intelligenti di molti altri nemici, un secondo, guardiamo la locandina, ricorda qualche altro videogioco, non saprei dire, Fear forse, non so perché, vediamo le altre locandine, ok, controlliamo bene tutto, oh, non hanno mollato niente, questo si è consumato, va bene, scendiamo, no, benissimo, allora, dobbiamo rifare uno di questi e aggiustare, potenziare questo, aspetta, qui ci suggerisce tutto, devi lasciarmi anche però recuperare la roba, qua i materiali sono fondamentali, cavolo, a campare, bene, nient'altro, sembrerebbe di no, proprio parecchi comunque, non me la ricordavo sta cosa, probabilmente non l'avrei attaccato se me la ricordavo, però ormai ero lì, ho dato inizio al casino, dovevo anche porre fine alla cosa, ok, non c'è più niente, vabbè, si torna su, faccio vedere questa scala per essere certo, usciamo di qua, usciamo di qua, questa parte è proprio una cosa, un'incognita per me, come se fosse nuova, no, vabbè, qualcosa mi viene in mente, però non mi dire, qua sale, no, ok, dai, via, andiamocela, c'è niente? no, no, chi è abbastanza disperato è capace di qualsiasi cosa, e questi disperati sono quelli che abbiamo combattuto qui, immagino di sì, eh sì, che bel casino, bello, ti introduce comunque bene alla situazione qua, vediamo dove porta, porta di qua, fa attenzione quando scendi, vicino all'immondizia le pasticche così che, questa era una cosa, fammi vedere un po' quante le abbiamo, allora 30, città di cura, oscillazione, anche se questo, tutte e due servono, a tutto serve alla fine, bene, poi, facciamo prima questo, l'altro di questo, e buon così per adesso, omogenei, mi servono più o poco, ah è vero, forse adesso abbiamo di nuovo da fare un altro bel massacro di umani, vorrei anche provare a evitare qualche combattimento, ce ne sono altri, bene, andiamocene, ok, non penso ci abbiano visto, bene, però, ecco il nostro ponte, siamo un po' più vicini, penso, continuiamo a muoverci forza, fammi prima di tutto, guardare in zona cosa c'è, qui la ragazza è magrissima, qua la modella, cosa c'era, ok, dobbiamo trovare un altro banco da lavoro però, piano piano, mi sto svegliando, mi sto svegliando, ho la voce già più normale, più o meno, dire la verità, più o meno, e a questo punto, non so che dire, possiamo andare, ah, qua c'è giusto un po' qualche insetto, non posso saltare così lontano, se mi fai salire, posso spostare quell'asse, invece, ah, però tu non nuoti, chissà se hai imparato, nel secondo, nient'altro, forse qua, ma mia che postacci, c'è giusto un po' qualche insetto, ok, quella, no, c'ho la bottiglia vuota, c'ho la bottiglia vuota, ok, 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 c'è un'altra di quelle cose tipo zattera, possiamo usarla? che l'hai vista? ah, laggiù, sì, aspetta qui, guardo dove va a finire, che dia, come si spostai Non c'è l'hotello Ok Non c'è l'hotello Va bene Ora devi solo trovare il modo di salire Vieni tu di qua Che voglio esplorare una zona Non c'è movimento Non c'è niente Aspetta un po' Uuh Funghi Dove sei? E' lì Ti è perso di vista? Ah è rimasto qua sotto Ok Bene Vediamo un po' cos'è Ok Buono Abbiamo qualche indizio su qualcos'è Su materiali da trovare Altre pasticche Conviene sempre esplorare Ok Qui siamo a 35 Qua abbiamo Niente Niente Che si può fare? Possiamo scendere anche prima Ma io voglio andare prima sopra Se si può ancora salire eh Non lo so No Andiamocene Si può scendere anche di qua Però Un secondo Ci sono dei momenti che Che fai? Già il legno è in marcio Frequentavi spesso le caffetterie? Si Molto spesso E cosa prendevi? Beh Solo caffè Per te i cacciatori sono andati Stiamo per scoprirlo No Dubito Però andiamo Via libera Ellie scendi Sì Ci eri mai stato in un posto così? Prima che andasse tutto il malone Siamo... No Troppo sforzioso per uno come me Ah Doveva essere me Doveva essere un po' intorno No No Per me possiamo scendere là No È troppo in alto Vediamo cosa troviamo Che sti ratti scappavano così? Allora qui c'è la scala vabbè E fare prima un giro E fare prima un giro Un po' ricordi solo vaghi di questa zona proprio Allora A parte che come fai a ricordare I videogiochi Tutti Bene qua Mi fermerò per una notte Vorrei la vostra suite migliore Grazie Che diavolo stai facendo? Oh Certo Porti pure sulle mie valigie Sei stramba ragazzina Ok Perché Ah sono pieno Come se non posso più produrre Cioè Questo e questo siamo al massimo L'alcol è al massimo Ah c'è una cassaforte qua Ci serve la combinazione Buona Cerchiamola Allora Intanto Qua non si poteva andare no? No Però avevamo preso la scala Ehi c'è una scala qui dietro L'ho vista L'ho vista Sì sì Vediamo se mi dava il dialogo Ma no Adesso non mi ricordo più dove devo andare però Vabbè questa iniziamo a metterla qua No No Ecco Allora No Ma dove cavolo che l'ho messo? Ma dove cavolo che l'ho messo? No. Ah, ok. L'appartamento regala. Ok. Però adesso fammi vedere un attimo se si può salire. Intanto... No. Andiamo a vedere anche di qua. Allora, qua sotto l'abbiamo visitato tutto. Però ci manca... quel cavolo di... di numero della cassaforte. No, non volevo. Sali. Ok. Questo 5T è di sottofondo. Aspetta, aspetta. No. Salta giù. Questo adesso. Sali. Che dove vuoi salire? Troviamo di qua. Eh, che cavolo. Non ho capito perché non saliva. Vabbè. Sembra tutto in ordine. Ok. Riprendiamo la nostra esplorazione. Vediamo di trovare solo quello che ci serviva. Che qua non ci passa. ok. Oh, ok. Giù, giù. Aspetta, a quanti siamo arrivati? Cinque solo questa settimana, ma non mi la metto. Certo che no, abbiamo finito. Devo controllare ancora un piano. Perché? Sono settimane che non vedo un clicker. Perché siamo scropalosi e continueremo a esserlo. Ora finiamo, ok? Bene, come... Bacca, bacca, Gioia! Dove cazzo si è cacciato? Dov'è l'altro? Guarda avanti il cavolo, Soro. Guarda che è scepo quello. Merda! Merda! Cavolo di Terminator, sti. Una volta devo farlo. Non mi piace, ma ci sta la luce lì, però sono io che tutte le volte... L'abbiamo uccisi tutti? Credo di sì. Una strage! Sto facendo... Potevamo farla stentare, sto giro. Però aspetta un attimo, io voglio trovare sto cavolo di... No, ormai l'abbiamo svegliati tutti. Aspetta, eh, wow! Un attimo, è più comodo da tenere in mano. Qui non c'è più niente. Qua. Allora, uno e due. Tutto serve. No, c'è così. No, c'è così. C'è qualcuno ancora. Li vedo ancora preoccupati. Possiamo fare ancora questa zona, allora. Non c'è più niente. Il posto spettrale, proprio. Reggettiamo prima l'edizione. Di qua. Ok. bello bello questo non vi piace questa parte non ero completamente dimenticata però non so perché io mi ricordavo che c'è dopo l'auto finivamo subito col ragazzino invece no c'è tutto questo pezzo e non me lo riportavo proprio bene bene mi piace quando i giochi mi sorprendono anche a distanza di anni aspetta un cassetto ok vabbè suggerimento qui benissimo allora coltello l'abbiamo recuperato dobbiamo solo fare una di queste che schifo è per terra blob andiamocena aspetta così bello veloce andiamo aspetta aspetta prima di fare sicuro l'ho guardato tutto questo lato sì no vedi che c'è della roba no non avevo guardato tutto bene ok adesso abbiamo fatto tutto proseguiamo nient'altro no ancora qualcuno c'è ancora qualcuno va bene ragazzi mi serve qualche minuto torno subito grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Un'attimo che controllo solo anche se funziona tutto qua sulla pagina. Sembrerebbe di sì. Ok. Va bene. Ehm, ci è voluto un attimo, perché facciamo un'ora e mezza che siamo attaccati qua. Vediamo un attimo. Allora, c'era qualcuno. Vediamo di eliminarli subito. Ehm, vediamo se si riesce a fare qualcosa di... Un po' è un po' stelta stavolta. No, è lì, però, è lì, però non devi starmi in braccio proprio ogni volta. Per un pelo. voilà, e uno è andato, rimettiamoci questo, che combattiamo decisamente meglio, comodo l'arco però, bello silenzioso, c'è nessun altro, dove sei, coraggio, vieni fuori, ma con chi ce l'ha qui, avrebbe sentito il rumore, no, guarda quanti sono, cazzo, via via, ma dove cazzo sei uscito tu? l'ho stesso alla grande guardami le fanno prenditi guardami le fanno che cosa c'è? guardami le fanno ma dov'è quello? è sceso sotto? ok ok guarda che ce n'è uno che arriva qua sotto ma sono furbi ecco questo che strage cazzo ancora qualcuno? no carica tutto benissimo anche se avrei voluto usarle quasi vediamo di recuperare tutto allora facciamo meglio questo adesso facciamo così ecco 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 poi cosa volevo fare? vediamo no non possiamo farlo però va bene lo stesso c'è qualcuno che faceva il giro da sotto non ho capito come faceva però vabbè dai meglio questa ok dovrebbe aver fatto tutto non ho capito non ho capito non ho capito non ho capito ok siamo sani se lo sapevo vabbè abbiamo preso tutto non ho capito no no ho capito no evo ge che cavolo che cosa è caruttato wow aspettiamo ancora un po' poi facciamo anche quello ok recuperiamo tutto c'è nient'altro no come ricordo che a un certo punto ci sarà da combattere anche gli infetti ne no? con questo schifo ok brutti momenti eh proprio ok proseguiamo no aspetta sì di lì di qua ho fatto allora sì vabbè vuole portarmi di là però io forse anche qua c'è da esplorare non c'è niente spazzolato tutto andiamo bellissimo ok ok allora prima questo e poi questo bene si riprende pure mi sembrava che là sotto si poteva andare però qua c'è da salina dove è finita quella ah ok anche di qua questo ci vuol far fare qualcosa non ricordo più dai facciamone uno ok ho dato un trofeo adesso vediamo non si vede tanto non so perché ragazzi sempre ve lo dico quando vedete questa macchia nera per favore scrivetemi se qualcuno lo sa come si fanno queste cavolo di opzioni perché le ho provate già tutte ma non riesco proprio a ricordare allora un attimo volevo guardare una cosa la fumogena no vabbè andiamo ok ci siamo ma è lì dove è finita ah si è smaterializzata qua andiamo anche se là sotto vediamo dove posso non si sa mai forse possiamo passare di lì che ritrova guarda di qua sarà un po' stretto ma si può fare ok ok qui ci si è carato trovami qualcosa su cui salire ci siamo ci siamo che culo sto bene tu stai bene no mi hai spaventato a morte che lo dici adesso forse adesso forse ce lo dice lo dice sempre forse è quella no non è quella forse è di là il malefici clicca che si vede tutto guarda che non posso usare il zaino guarda che non posso usare ma così non lo percepisco ancora poi questo siamo messi così no qua ancora 5 andiamo non ho ancora provato l'aggiunta guarda che non posso usare Ola Guarda che schifo sto posto. Beh, forse quella porta è... Beh, in compenso stiamo trovando cose. Non c'è nient'altro. Allora, di lì arriviamo. Qui qua. Devo girare questo cancello. Che rumore. Che ci dice. Sì. 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 di qua. Ok, sembrerebbe. L'abbiamo girato. Spore. Eh, che palla. C'è movimento, no? Ah, merda! Cosa c'è? Sento il rumore, non vedo niente. Mettiamole tutte cariche, però teniamo il fucile. Sembra tutto in ordine. Al massimo anche quelli del fucile. Interessante questa cosa. Sono riuscito a vedere quanti ne ti erano? Sette. Vabbè. E poi un po' in più non è che farebbe male, eh. Allora eravamo rimasti qua. Qua mi era sembrato di vedere una scala. Sì. Togliamoci dalle spore. Vabbè. Benissimo. Adesso abbiamo anche questo. Allora... Usi le armi. Vado per questo. Macello? Benissimo. C'è un macello? No. Guardate se stanno fermi. Non li vediamo. Cos'era? Sarà di qua? C'è un cavo elettrico, ma... guarda, apriamo tutto. Ok, questo è 12. Questa bene. Nient'altro? No. Proprio non me lo ricordo, questo pezzo. stupolino verde quello. Non so dove devo andare. Vado di qua. qua c'è fungo, c'è fungo dappertutto. Allora... a mettere un po' questa. qua c'è buona. Eh... io odio queste cose cura ma perché? che palle no? come si cambia? ok d'avanti i prossimo questo così allora un attimo allora abbiamo la scheda non so più cosa serve ce li siamo tolti tutti credo di sì devo scendere qua sotto un attimo Grazie a tutti. Allora, un attimo, reperti. Hotel, gira. Non mi ricordo dove devo andare. Forse devo solo seguire i cavi. Forse. 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 ma non so capire se è possibile ancora farlo allora non mi ricordo proprio più questa parte credo che sarà bello riscoprire invece tutte le nuove storie del genere cos'era? no c'è più nessuno? no bene allora generatore perché deve fare tutto questo bordello? dove cavolo si passa per accendere sto cavolo? non c'è niente non so capire patatine allora questo cavo va ah lì guardate che casino guardate che casino e poi adesso attirerà il mondo il suo rumore guardate che questo è già un pelino grosso allora ragazzi facciamo così ci fermiamo qua perché già due ore passa e quindi andiamo avanti alla prossima quindi niente vi saluto e alla prossima ragazzi anche se brutto mollare così però è già troppo tempo poi non ce la faccio più io comunque va bene ciao a tutti ragazzi